Un saluto dalla redazione di Roma Servizi per la mobilità, oggi e domani orario lungo per le metropolitane con le ultime corse dai capolinea a l'1.30 di notte. Domani dalle 18 allo Stadio Olimpico Roma-Verona, il piano viabilità, sosta e trasporto pubblico nell'area del fuoritalico è su romamobilita.it. Domenica invece nel pomeriggio dalle 16 è in programma un corteo dal Circo Massimo a Trastevere passando per Via Leventino, Via Maramorata, Ponte Sublicio e Porta Cortese, possibili deviazioni per 26 linee di bus.